Mi piace... Mi piace! Ma perché oggi ha tutto il vocale? Tuffarmi con Francesco Marto grazie mille per i due mesi di San Ben tornato tra le parole armate il mattino Dormo con i miei fratellini Ma perché ho la voce così? Look at the hot stuff, baby, to see Tata Lucia, nuova donna Summer Vediamo che prende il microfono Vediamo cosa dice Francesco Francesco dice Mi piace zuffarmi con Luca Imparo a mangiare da solo E dormo con i miei fratellini Pacchi, grazie mille per la sabba Minuto da papà